Un importante, importantissimo colpo di mercato in attacco del Taranto con Cianci proveniente dal Catanzaro dove ha stravinto recentemente il campionato, in passato ha giocato con la maglia del Bari sempre in Serie C ottenendo importanti risultati con il Potenza dove ha avuto un'esperienza anche con mister Capuano. Insomma una scelta importante dopo aver vinto, stravinto come diciamo il campionato con il Catanzaro, scegliere Taranto perché? Ho scelto Taranto perché ho avuto il mister a Potenza e mi ha voluto a tutti i costi quindi sentirsi da lui apprezzato visto che è una persona competente in questo mondo per me non esitato a dire subito di sì a lui perché ci tenevo personalmente e soprattutto perché ho tantissima voglia di rilanciarmi e fare bene. Se Cianci viene a giocare al Taranto vuol dire che crede nel progetto e ha fiducia in questa società? Assolutamente sì, sono qui perché credo nelle parole che mi hanno detto e ora partiremo in ritiro e non vedo l'ora soprattutto di iniziare a giocare. Un centravanti vero e proprio, l'anno scorso nove gol con la maglia del Catanzaro nonostante tutta quella concorrenza che c'era lì in Calabria. No, sono stati due anni difficili la Catanzaro, io mi sono sempre messo a disposizione su tutto, quando sono stato chiamato in causa penso di aver sempre risposto presente, ora sono qui a Taranto e voglio aiutare la squadra ad ottenere ottimi risultati. Un vero bomber che non ha bisogno di presentazione, insomma sappiamo benissimo quali sono le tue caratteristiche, soprattutto il gioco aereo, la potenza, la forza fisica. Un campionato di Serie C che si pronuncia forse più importante di quello dell'anno passato. Sì sì, sarà un campionato di livello superiore secondo me rispetto agli altri anni, quindi noi squadra ci teniamo personalmente a fare bene e a puntare più in alto possibile. Dove va Cianci i progetti sono importanti, il Taranto di quest'anno si presenta con un'ossatura discreta, Vannucchi, penso ad Antonini, Mastro Monaco, Ferrara, Samele e adesso Cianci. Insomma sta venendo su una bella squadretta, una bella squadra. No, no, già una base importante il Taranto, quindi come ho detto prima sono contento di essere arrivato qua, di poter dare una mano alla squadra e astendiamo solo che inizi il campionato e così diamo il via. Il Taranto, lo stadio Iacovone, i Tarantini, il tuo messaggio alla tifoseria Ionica? Il mio messaggio è quello che prometto e che suderò la maglia così come ho fatto in qualsiasi squadra e speriamo di toglierci tante soddisfazioni. Capuano che ti ha detto, il Presidente cosa ti ha detto? No, no, mi hanno convinto subito, mi hanno stressato un po' però nel senso buono, quindi come ho detto prima ho apprezzato molto la loro voglia di avermi qui a Taranto, quindi io in giro di due giorni abbiamo fatto tutto. Conoscendoti sappiamo che non hai paura di niente, però insomma questo colpaccio di mercato ti mette un pizzico di responsabilità in più. La paura non è questa nella vita, alla fine giochiamo a calcio e siamo agevolati, non vedo l'ora di iniziare e basta.